Adesso passo la parola all'amico Roberto Maggiori che ci introdurrà il professore Italo Zagner. Roberto tra l'altro è un amico dell'associazione, lui ha già collaborato, insomma cinque anni fa è venuto qui alla Rocca Malatestiana a Fano e ci ha portato un grandissimo fotografo, Jacopo Benassi, una bellissima installazione, ha portato le sue edizioni, insomma ci si è divertito. Bene, grazie, passo la parola a Roberto Maggiori, grazie mille. Grazie a te Marcello per averci invitato, a voi per essere arrivati a seguire questo piccolo incontro. Allora, io mi occupo di editoria, è una cassa editrice che approfondisce temi legati alle arti visive, all'architettura e soprattutto alla fotografia. Per cui ho avuto l'onore, grazie a questo, di collaborare più volte con Italo Zagner per pubblicare appunto molti dei suoi lavori. Adesso lascio subito la parola a Zagner, non voglio annoiarvi e poi è bene che sfruttiamo la sua presenza al massimo. Ecco, l'idea era semplicemente, visto che Italo, come tutti sapete, è un filologo e uno storico della fotografia, insomma, abbastanza apprezzato in tutto il mondo, per cui ovviamente le sue idee che sono quelle che ormai molti conosciamo, le ha divulgate nero su bianco, pubblicandole. Per cui direi che il discorso che possiamo iniziare, parlando di storia e tecnica della fotografia, può avere, diciamo, come filo conduttore le varie pubblicazioni che abbiamo fatto, che trattano temi diversi, perché poi la fotografia consente, no? Utilizzi e usi che possono essere anche molto diversi, per fortuna. Comincerei subito allora con il primo libro che abbiamo fatto, che si intitolava Sembianze, ed è un volume particolare perché è uscito intorno al 2011, quindi in un periodo in cui si dibatteva ancora tra il digitale, la cosiddetta rivoluzione digitale e, diciamo, la fotografia canonica che veniva considerata per certi versi obsoleta. In realtà, in questo studio, Zagner dimostra come la fotografia, già alle sue origini, in qualche maniera aveva in nuce questa propensione alla falsificazione, solo che magari non era a conoscenza del pubblico che era più ingenuo. Diciamo che il digitale ha massificato questa propensione rendendola alla portata di tutti e quindi è un discorso più quantitativo che qualitativo. Nel libro facciamo un escursus passando dalla fotografia dell'Ottocento a quella contemporanea e verificando come appunto molti fotografi addirittura modificavano e falsificavano le foto per farle apparire più vere, mentre di solito si pensa il contrario, che sia necessario magari modificarli per dare un input alla creatività, eccetera. Invece, in realtà, alcuni di questi accorgimenti, nel periodo primordiale della fotografia, che aveva dei limiti tecnologici, servivano proprio a rendere le fotografie ancora più realistiche. Per esempio, quando c'erano le pellicole ortocromatiche, non si poteva fare la foto del cielo e del terreno perché il cielo sarebbe completamente sovrasposto. Per cui si faceva un fotomontaggio, si fotografava con un'esposizione il cielo e con l'altro il paesaggio, e poi si univa tutto. Ma questa falsificazione, tra virgolette, era a fin di bene, non voleva ricercare tutti i costi, la falsità. E quindi, ecco, mi piacerebbe iniziare chiedendo a Zagner proprio di fare un escurso su questo libro e parlarci del come i fotografi, sin dalle origini, abbiano avuto modo di proporre delle immagini all'apparenza realistiche, che però non erano solo realistiche, anche perché la fotografia, grazie a Dio, è uno strumento mai completamente reale né esclusivamente immaginato. Quindi dal dosaggio di queste due componenti, di queste due possibilità, emerge poi la poetica dell'autore, che può essere più orientata verso il realismo piuttosto che verso la finzione. Però in entrambi i casi permane sempre, permanono sempre le due facce della medaglia nelle fotografie. Parlaci un po' di Zagner. No, no, intanto vi avverto, io parlo a Vambero, non mi piace neanche il termine, capisco, vi ringrazio, non so, l'Alexio Magistralis, no, e la fotografia ha sempre anche bisogno di questo aulico, no, infatti tutti imparano di progetti, o un progetto o una ricerca, il territorio, che è una terminologia, no, che tende ad imitare, no, quella un po' accademica, no, nel mondo dell'arte, eccetera, lasciamo stare questo, sto scherzando. Poi anche siamo qua, sono qua con un gruppo di carbonari, perché siamo anche sottoterra, un po', ma poi la fotografia, tanto mi dà modo di accenare una cosa, che da qui di fuori anche quello che il caro Roberto mi chiedeva di spiegare sulla sembianza, no, la fotografia è il solito discorso che ho fatto da decenni ormai, perché io se mi conto sono 60 anni che mi occupo, 65, guarda, di fotografia, e sono, mi assicuro, stufo, stufo al punto che so tanto, so troppo, io leggo ogni notte qualche libro del 1841, 43, 45, non parlo più con nessuno che sa di fotografia, perché ogni ciclano quello che io scrivevo 60 anni fa, magari non sulle fonti, e andiamo sempre sul banale, allora quindi proprio ho un aspetto di ritetto, quando trovo qualcuno che mi affronta per stare a spiegarmi delle cose che abbiamo scritto 60 anni fa, se poi dovrei dire qualcosa sono anche ammalizzato, perché nella pubblicistica di questi ultimi 7, 8, 10 anni, cioè da quando sono 15 anni che sono uscito dall'università, si fanno libri senza la bibliografia, accuratamente cercando di non citare né me né altri che hanno scritto, lavorato, dando gilardi a Settimelli, a Angelo Svaro, a Lanfranco Colombo, e tutti questi, che di cui non sanno più chi sono. Allora, io capisco, ci si dimentica delle cose che sono. Io un'altra maretta, parlavo l'altro giorno di Leonardo Sinisgalli e nessuno sapeva chi fosse, che era stato il più grande pubblicitario dell'Olivetti, eccetera, con riviste come civiltà delle macchine, eccetera, oltre ad essere. Allora, per far ricordare qualcosa, dico, guardate che era uno dei ragazzi di via Panisperna, assieme a Enrico Fermi, quello che poi ha fatto l'atomica. Allora, questo è uno sfogo inevitabile, no? Quindi no. Adesso, a parte questo passaggio per cosiddetto ossina parola, analogico e digitale, perché tutto è analogico, non sono parole. Il digitale per me era quello che un medico mi diceva, era una medicina per il cuore alla fine dell'Ottocento. Il digitale e l'aspirina erano le grandi medicine per salvare la pelle. Allora, oggi indubbiamente questo ha creato una serie di problemi. la diarrea della fotografia non è altro che questo. Tutti fotografano, tutti credono di essere fotografi. La cosa è magnifica, bellissima, mi piace, niente di grave. Basta intendersi su cos'è la fotografia. La fotografia è pensiero, pensiero. Non è? È anche una tecnica che ha investito gli aspetti sociologici, tecnologici ed estetici. La storia che ho raccontato qua anche, in questo libro, che nessuno legge, perché nessuno legge più di tre pagine. Chi ha letto tutto Proust? L'altro giorno uno ha avuto il coraggio e gli dico io l'ho letto. Ma dai, hai letto 20 pagine, un volume. No, allora non si legge, non si sa. No, non ci sono poi le fonti. Non ci sono le biblioteche. C'è la mia biblioteca che ho dato alla Fondazione di Venezia, che è conservata a lingua, facoltà di architettura di Venezia, che ho insegnato per decenni, che nessuno usa e nessuno sa che cosa c'è dentro, perché l'ignoranza è inevitabile per tutte le cose. Per me, innanzitutto, io sono ignorantissimo, salvo la passione che ho per alcune cose, che porta a cercare di conoscere e capire. Ma, ripetendo una fratetta che dico sempre, se non si sa cosa è un sasso, non lo si trova neanche nel fiume Piave. E questo è lo stesso. Una biblioteca di 12.000 volumi, no, che se uno non sa, non mi hanno mai chiamato neanche a dire alla ragazza o al ragazzo che stavano facendo l'elenco di cosa si tratta. Uno potrebbe trovare l'opuscoletto unico, come c'è, della fotografia italiana dell'Ottocento e dire cosa è sta cosa, tuttala là, come accade per tutto. Ma non per tutto, perché per la storia dell'arte c'è una tradizione grande, secolare e c'è una difesa. La storia dell'arte è difesa, come la storia della musica, come la storia della letteratura. La storia della fotografia non è difesa da nessuno. Io sono stato l'unico professore all'Università di Storia della Fotografia per 40 anni. Quando sono andato via, il mio vecchio corso è stato addirittura ridenominato ed è diventato storia dell'architettura, qualcosa del genere. Cancellando. Non Italo Zanier, che non mi interessa io, non mi interessa magari cancellare. Cancellare. Ma cancellare è una tradizione, perché la fotografia non conta. La fotografia è qualcosa di vassallo, di marginale. E devo dire che questo è pensato anche da tanti che si occupano di fotografia. Storici dell'arte, storici della scienza, storici di varie cose, o anche studiosi, che la fotografia si occupano un po' come qualcosa di marginale, che serve. Invece la fotografia è fondamentale della modernità. È l'emblema, non sono mica pazzo, è l'emblema della modernità, della evoluzione tecnologica. Io, quello che ho cercato di indicare in questo libro, e non è che fate la pubblicità, e ringrazio Roberto che lo ha pubblicato, perché ho avuto difficoltà a pubblicare questo libro, è una storia dell'evoluzione tecnologica, dove trovate il vapore, l'elettricità, l'elica delle navi per andare più rapidamente dall'Europa in America, il telegrafo, il telefono, e la fotografia, guardate anche la data, 1839, l'emblema. C'era bisogno di un'immagine che rapidamente potesse sotterire con la sua sembianza, con la sua sembianza, come era il fatto del mondo, rapidamente, il linguaggio nuovo, il linguaggio che ormai è quello di tutti, ma c'è un analfabetismo anche totale, è, la fotografia mostra le cose, e la gente crede che quello che c'è nella fotografia sia l'oggetto. Allora, questo credo tutti lo sappiano bene, l'immagine è ricavata dal soggetto, ma non è il soggetto, ma non lo è assolutamente, l'idea del paesaggio che abbiamo è l'idea dell'immagine, non esiste più l'oggetto concreto, no, non esiste più l'oggetto concreto, esiste l'immagine dell'oggetto che è diventata oggetto, è un po' difficile da afferrare, ossia l'immagine è l'oggetto, anche adesso che l'immagine è fanica, termine che ho inventato io, ossia è apparizione, apparizione, quella del telefonino, quella della macchinetta, come questa che io uso, è quando, premo, chiudo, qua non c'è niente, quando c'è, quanti sono almeno 3425? Fanie, non grafie, guanie, allora, però sono pensieri, allora, a me interessa molto questo, perché si può anche ottenere un'idea sociale dell'uomo, dell'individuo e della comunità, di tutti, tutte le immagini che vengono fatte sono scelte e fatte nel reale, scelte e fatte nel reale, e quindi come test psicologico la fotografia diventa sempre più fondamentale, nella sua ambiguità si cattura da dietro le spalle, e crediamo che esista ancora il vero tattile, ancora c'è, ma proviamo a pensare nell'evoluzione prossima, dei secoli, dei millenni, la perdita continua e inevitabile dell'idea di corpo, dell'idea tattile delle cose, ecco, e quindi questa è la realtà, che come penso io, non è tanta scienza troppo, eh, se volessi andrei avanti, vi direi delle cose che voi chiamereste la camicia di forza, no, ma sicuramente questo lo ferono tutti, ormai noi viviamo in un mondo iconico, quello di cui abbiamo più volte parlato, che è l'era dell'iconismo, l'era dell'iconismo già avanzata come tale anche da grandi studiosi, da Marshall McLuhan, per esempio, il primo grande studioso dei problemi della comunicazione, ma anche da più ignorati scrittori dell'Ottocento, che già intuivano questa cosa, questo nuovo mondo, e invece la struttura accademica, tradizionale, che le resistenze, no, del tempo, le resistenze, hanno sempre cercato di dare alla fotografia una valenza anche artistica, ma sempre comparata, confrontabile, con quella appunto dell'oggetto. E a questo punto, tanto per non andare avanti troppo, perché però mia moglie là in fondo, che a un certo momento mi avvertirebbe di smetterla, come accade, perché io parlo troppo a lungo a Venezia, prendono la prima calle a sinistra o a destra appena mi vedono, perché quelli blocco e gli racconto le storie della fotografia, delle quali non hanno nessun interesse, e di quelle quel matto designer che nega racconta quella cosa, ma per il buro. Allora, c'è una storiella, però non male, fate attenzione perché è difficile a volte, se uno non, data l'abitudine che abbiamo di vedere le immagini per i mail, le immagini faniche che vengono trasmesse con due bottori, pim, pim, pam, 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 tam. Allora, c'era una volta un grande pittore, che si chiamava Pablo Picasso, E una mattina Pablo Picasso si sveglia di buon umore e dice ma guarda quel mio amico François è così simpatico che voglio regalargli un quadro. E allora fa il numero di telefono, non c'era ancora il cellulare, François, je suis Picasso, oh bonjour, voglio regalarti un quadro, grazie, grazie, grazie. E Picasso gli dice come te lo mando? E l'altro gli dice mandamelo per e-mail. Capito? Difficile. Ecco, allora, perché ho chiesto Picasso? Allora, un quadro di sordomoranti ovviamente per e-mail non vale niente. No? Perché non vale niente? Perché il quadro è quello, il dipinto è quello, è fatto di un corpo, di un supporto, di un colore, di una qualità indefinibile, indefinibile. Ma è dato dal corpo, come tutte le cose. È indefinibile. Quando si parla cos'è la pittura? C'era l'amico Renato Barilli, quando ero a Danza a Bologna, che diceva, eh, la pittura, che uno ancora che capiva la fotografia, magari sempre passarla, eh, assolutamente passarla, utile, utile, utile e basta. E diceva, la pittura, cos'è? E faceva così con le mani. Mi piace pensare ancora a fare così, perché in fondo non è definibile. Non è definibile come tante cose non sono definibili, no? Come si fa a definire? Cos'è la pittura? E faceva, a pittura, a pittura. Eh, eh, è come, cos'è la bellezza? Provate a rispondere, cos'è la bellezza? Io credo, da l'altro sarebbe venuto in vaporetto perché guardavo la laguna. È uno stato d'animo, potete annotarla. Mi pare una definizione abbastanza accettabile. Non esiste nessuna prova della bellezza. Se pensiamo le prime pagine, la prima pagina di, del libro di Darwin sul viaggio che fa col Bigle nel mondo, e dice che la nave si è ancorata al largo di quell'isola delle Galapagos. E' mai sconosciuta l'isola e dice guardo, vedo lontano questo paesaggio brullo, fatto di erba secca. Che cosa direbbero i miei amici di Londra che pensano che il paesaggio debba essere quello di Hyde Park? Io trovo questo, Darwin, pensate, che per lui era la bellezza, quel prato arido di erbacce. Allora, è così la fotografia. Allora qua vedete che se andassi avanti farei filosoferei. Non voglio fare il filosofo, non lo sono, però la fotografia deve suscitare queste perplessità. Come abbiamo cercato qua, con questo libro, no. Dimostrando che persino la più antica fotografia del mondo è falsa. Mostrava un paesaggio con la luce di una tornata intera, col sole da sinistra a destra che nella lunghezza della posa aveva consentito di ottenere un'immagine. E qui basta, basta avere il sospetto e il dubbio. Allora, intanto chiuderei questo dicendo che nella scuola andrebbe insegnata la fotografia, ma non come fatto il tecnico, come magari facevano, forse l'ho fatto anch'io, mostrare come buttando la luce su un foglio di carta magica nasce un'immagine. Ma qual è il problema fondamentale del linguaggio della fotografia? Come si insegna? Letta, scrivere e far di conto. È lì che si deve cominciare. Ah, è l'immagine, l'immagine, ma non come fatto accessorio. Come sempre in Italia si insegnava anche l'educazione artistica, era sempre l'ora di religione, cinastica e disegno. Erano le ore, che bella giornata oggi. Insegnarla, far capire, visto che i bambini nascono col cellulare sopra la culla che tintilla, come una volta c'era un omettino di celluloide. E questo è un problema della società. In Italia è un problema nazionale. Il Ministero dei beni culturali dovrebbe pensare a questo. Ma tanto, guardate, hanno fatto un convegno nazionale sullo stato della fotografia, io non sono stato invitato, perché io sono presuntuoso, ma dico dopo che uno ha insegnato 40 anni all'università, non può un ministero trascurare quando ci sono decine di falsi conoscitori della fotografia che non sanno quasi neanche quando è stata inventata. Questo è un problema anche grave. Non per me, ma anche felice andare a Roma a cosa, a far cosa, a parlare al Ministero. Ma chi capisce? È un problema non da poco questo da capire. Però ci sono istituzioni private che hanno riempito l'Italia di mostre poco utili. I soliti noti del fotogiornalismo, che è un grande settore della fotografia, ma basta con Robert Kappa, basta con Cartier-Bresson, basta con questa fotografia grande, ma che in fondo crea dei problemi. Bisogna partire dalle basi della fotografia, dal linguaggio. Uno non è che parte da Joyce, uno deve conoscere le parole, l'alfabeto, la grammatica, la sintassi, cominciare a capire questo. che ho cercato nell'ultimo mio libro, che fa seguito a questo, proprio dando delle indicazioni su una certa fotografia che non è mai più stata valutata perché non fa pagare il biglietto, capito? Perché la fotografia, come tante altre cose dell'arte e della cultura, sono inventate perché devono andare centomila persone, 300.000 persone e avanti, 12 euro l'una, 12 euro, entrare e uscire. Addirittura nel Veneto ci sono adesso due mostre di Robert Kappa. E una curatrice, così adesso facciamo venire i bambini delle scuole che così vedono che cos'è la guerra. Ma dai, la guerra, anzi, come il grande Ando Giardi lo scriveva nella sua storia sociale della fotografia 60 anni fa, no, smettendo questa idea, il fotografo di guerra, e anche lui fa il suo mestiere, bravo, no, coraggioso, come tanti, come tutti, è coraggioso anche quello che va in cima all'Erest, è coraggioso. Allora, una cosa è anche l'eroismo, una cosa è anche, può essere una, è anche bellissimo, bello. C'è un Arendt, c'è anche magari Ingrid Bergman, e poi va anche a fare le fotografie. No, un momento, per me Robert Kappa è un fotografo, non grande, non grande. Cosa vuol dire? C'è il linguaggio che conta, ci sono 10, 20, 30 fotografie, etc., ma non deve bastare il fatto che quel fotografo fosse in quel punto e che abbia fotografato quel gruppo di soldati che cammina così. Non basta. Ci vuole qualcos'altro alle spalle, così come quando si legge, no? Quando si legge un romanzo, è la scrittura, la bellezza, no? la scioltezza del linguaggio che conta. Se no, non ci sarebbe neanche un filtro, una barriera. Per la fotografia questo non conta. Invece non importa. Siamo quella mostra, allora, sono i grandi. Un'altra parola assurda, continuamente utilizzata, il grande fotografo. Fate una piccola verifica. Quando leggete con tanta facilità il grande scrittore, il grande musicista, il grande pittore, il grande architetto, ma per qualunque fotografo, anche il più modesto e amatoriale, leggete se è il grande fotografo. Questa è la bestrazione più grande nei confronti della fotografia. Perché non c'è un controllo. Il fotografo è sempre grande. Ma invece, guarda caso, gli scrittori non sono sempre grandi. Provate ad analizzare questo problema.